Buongiorno, buongiorno e bentrovati in questa edizione di mattino 6, lunedì 22 febbraio 2016, come sempre un lunedì incentrato sulle pagine, sulle notizie di sport, servizi di sport, ma è anche un lunedì questo che inizia, che sarà contraddistinto dalla visita del premier Matteo Renzi in Abruzzo, in particolare sarà nel primissimo pomeriggio ai laboratori del Gran Sasso, ad Assergi e poi di seguito sarà presso lo stabilimento della Walter Tosto, chiaramente un evento che seguiremo nel corso dei nostri notiziari. A livello sportivo è stato un fine settimana non particolarmente felice per le squadre abruzzesi a livello di calcio con le sconfitte di Pescara e Lanciano, quella del Teramo in Lega Pro, un sorriso soltanto per l'Aquila e poi in serie D le vittorie delle ultime e penultime della classe, Giulianova e Amiternina con il pareggio Beffa per il Chieti e le sconfitte per San Nicolo e Avezzano. È stata anche la domenica del derby del basket di A2 tra Pro Gerchieti e Roseto Sharks con la vittoria di Roseto 83-81 al Palatricalle. Ma veniamo ora alla rassegna stampa partendo dalle prime pagine delle testate nazionali. Iniziamo dal Corriere della Sera, questa è l'apertura, fiducia sulle unioni civili, l'ipotesi a sorpresa di Renzi intesa con il nuovo centrodestra senza adozioni, insorge la sinistra, il premier all'assemblea PD, 5 Stelle, ma se togliete il canguro noi pronti ad approvarla. Poi c'è l'editoriale di Ernesto Galli della Loggia, l'egemonia ha bisogno di un'idea, ambizioni e routine. Poi ancora in basso la fotonotizia, lo strappo con l'Europa del sindaco di Londra, Boris Johnson, non segue Cameron e dice no all'Unione Europea. L'Italia dei reati, denunce classifiche, Milano capitale dei furti, Firenze della ricettazione. Poi in basso l'ultimo show di Totti in tribuna da difoso, poi lui protesta in tv, Spalletti lo esclude. Poi all'Olimpico con Ilari lo stadio freme, ma è la fine, Caso Totti che trova molto spazio anche sulle pagine di cronaca delle testate nazionali. Passiamo alla Repubblica, basta Europa, il patto con l'UE spacca Londra, 5 ministri contro Cameron, il premier referendum il 23 giugno, Migranti, la guerra del Brennero. Poi c'è questa vignetta, l'ultima lezione di Umberto Eco, Lascia il segno nell'Italia e nel mondo. Poi il testamento nel libro in arrivo, martedì, i funerali a Milano. C'è anche l'editoriale di Eugenio Scalfari, una scomparsa che ci rende tutti più poveri. In basso, se il bus ritarda ti rimborsa, ma se fai il furbo ti spella. Maxi multe fino a 200 euro. Lasciamo la Repubblica, andiamo con la prima pagina del giornale. Altro che spending review, le spese nascoste del governo. Premier sbugiardato, nel 2015 la spesa pubblica è cresciuta di 52 miliardi. Unioni Gay, Renzi vuole la fiducia, caos nel PD. E poi l'editoriale di Paolo Guzzanti, il muro che unisce la destra americana e quelle europee. Poi il controcorrente, le vite degli italiani convertiti al Corano. Chi sono e cosa fanno i nostri connazionali che hanno scelto Maometto. E poi Dino Zoffi, il portiere più famoso al mondo, in questa intervista esclusiva al giornale. Quando Wojtyla mi confessò siamo colleghi. E quindi andiamo in basso, o meglio di spalla, morta Ida Magli, l'antropologa che ci aveva messo in guardia su Europa e Islam. Ecco in basso, case sequestrate per i profughi e spropri il caso arrivi in Parlamento. Forza Italia attacca, il governo deve chiarire. Salvini, il prefetto cambi lavoro. E quindi in basso, il finale di partita di Giuseppe De Bellis. Totti non si manda in tribuna la storia. E quindi il Fatto Quotidiano, la prima pagina del Fatto. Renzi sfascia le unioni civili. Si parla di retromarcia, fiducia con NCD e Verdini senza adozioni. Il Movimento 5 Stelle sì a tutta la Cirinna. Sotto la testata, Umberto Eco, giovane cattolico che insegnava il Dio progressista. Gli amici Gianni Vattimo e Francesco Guccini. I loro ricordi su Umberto Eco. Poi Roma divisa, Totti spedito in tribuna, la gran leggenda sporcata. Spalletti caccia il capitano e vince. In basso, storia di copertina, o con Silvio o con Matteo, la cricca è tornata. In basso ancora, tutte le salme del secolo breve, da Padre Pio al Cè, passando per Lenin e Mussolini. Andiamo a vedere l'ultima prima pagina nazionale con il messaggero, che poi vedremo chiaramente anche nelle pagine abruzzesi, ma ora appunto ci concentriamo sulla prima pagina nazionale. Renzi, rinviamo le adozioni. Proposta del Premier, se il Movimento 5 Stelle non ci sta, sarà patto di governo e pronti alla fiducia. I grillini provano a rientrare in partita, la sinistra PD in allarme, i centristi plaudono. Poi, sotto la testata, il progetto Verdone, saranno dei giovani talenti a creare un museo nella villa di Sordi. La contestazione, Lazio deludente a Frosinone, lo 0-0 non serve a nessuno. E poi, Spalletti manda Totti in tribuna, ma l'Olimpico sta con il capitano, fischia lo stadio, bufera dopo lo sfogo in tv e goleada con il Palermo. In taglio medio, Padoan all'Unione Europea, il Fiscal Compact va modificato. Oggi il Ministro dell'Economia presenta un documento che tocca anche le banche. In basso, primarie USA, Hillary è favorita, Trump vince, ma Rubio incalza. E ora passiamo ai quotidiani che parlano più specificamente dell'Abruzzo. Vediamo le pagine del centro, le prime pagine delle varie edizioni. Partiamo dall'edizione Aquilana. Cartiera alla Burgo, salvi i 90 posti. Fatto l'accordo, la fabbrica produrrà cartoncino. E poi, sotto la testata, vedete, come detto già in apertura, Jobs Act. Renzi torna in Abruzzo, la prima tappa del Premier al laboratorio del Gran Sasso. Poi, puntata a Chieti. In basso c'è l'editoriale di Francesco Iori, la rivoluzione di Papa Francesco. La fotonotizia, mondiali studenteschi di sci, il sogno di Giulia, tutto pronto per le gare a Ovindoli e Rocca di Mezzo. Di spalla, i richiami di cronaca, ricostruzione, Santa Croce, lavori bloccati vicino alle mura. Ad Avezzano, assemblea dei soci, la BCC conferma gli investimenti sul territorio. A Sulmona, polemica con Dimasci, crisi in comune a Ranalli, la verità verrà fuori. Per lo sport, Lega Pro, Scotti, Saracinesca, Savona, voglio essere utile all'Aquila. Serie D, Avezzano finisce al tappeto, Amiternina vince in trasferta. E poi il buongiorno Abruzzo di Domenico Ranieri, gol col cucchiaio e scoppia la rissa nei campionati, successo nei campionati diettantistici abruzzesi. Pagina di Chieti, cade dall'albero docente in coma, a basto il ramo si spezza mentre il professore recupera un pallone. Fotonotizia divisa in due, Chieti la vittoria sfuma alla fine, Proger che sfortuna. Pareggio nel calcio, sconfitta nel derby di basket. Per la cronaca a Chieti, così il comune dimentica i costosi furgoni. Sono ancora fermi. A Lanciano il PRG sblocca la chiesa di San Carlo, attesa da dieci anni. E quindi a Chieti, Terme, Teatro e Tempietti restano chiusi i reperti romani. Prima pagina di Teramo, Alpini, la marcia dei diecimila, mega raduno a San Gabriele, grandi onori agli ultimi reduci di Russia. E la foto al centro è appunto relativa alla marcia degli Alpini. Sotto la testata lo sport, calcio di Lega Pro, la lupa si mangia il Teramo, esplode l'ira di Campitelli e per il basket Roseto vince il derby d'Abruzzo. Poi i richiami di Spalla, visita di Renzi ai laboratori del Gran Sasso, si ribadisce il tour abruzzese oggi del Premier. Poi Frana minaccia la via principale di Ancarano, serve mezzo milione sempre a Teramo, diffida doppia per dieci ultra biancorossi da Rimini e Macerata. Possiamo ora vedere la prima pagina dell'edizione pescarese, poi sfoglieremo le pagine interne del centro. Allora, scuola al verde ma niente rincari, Pescara. Il comune decide di congelare le tariffe di mense e asili. La fotonotizia dedicata ai funerali della sfortunata giovane barista Fabiana, folla per raddio a Fabiana, Rose e Palloncini. I funerali della 24enne, morta in un incidente a Brecciarola. Venerdì scorso i richiami di cronaca, la prefettura inquilino moroso della provincia, debito di 280 mila euro. Poi omicidio di via Tibullo, raccolta fondi per la famiglia delle due vittime. Per il calcio, Sebastiani, il Pescara è forte e lotterà per la A. Possiamo andare all'interno dunque del centro, la pagina 9, pagina dell'Abruzzo. La visita del Premier, sei mesi dopo l'Aquila. Renzi ritorna in Abruzzo per festeggiare il Jobs Act. Tappe al laboratorio del Gran Sasso e al Walter Tosto di Chieti, che ha assunto 50 persone. L'imprenditore Luca Tosto, la nuova legge è un turbo per aziende e occupazione. E poi in basso, quell'autografo diventato un arrivederci. In agosto il Premier firmava il registro degli ospiti del Gran Sasso Science Institute con un complimenti orgoglioso di voi. Avanti, la pagina dedicata alla sanità, pagina 11. Spostiamo i primari, i servizi restano verso il nuovo piano regionale. L'assessore è una nuova mappa dei reparti. Le urgenze solo in presidi specializzati. I malati cronici in ospedali di comunità. In basso, professioni sanitarie, necessario un cambio. La CISL, Funzione Pubblica, sollecita l'attivazione di un osservatorio che faccia da preludio a servizi e dipartimenti. Avanti con le pagine di Pescara e Provincia. Siamo al Comune, asili e menze con i conti in rosso, ma le tariffe non aumenteranno. La giunta avara il nuovo piano dei servizi. I costi per i cittadini non cambiano rispetto all'anno scorso. La gestione dei musei è la più fallimentare. Il Comune spende 20 volte più di quanto in cassa. E qui c'è la classica tabella riepilogativa. Quanto costano i servizi al Comune. E poi la questione tassa di soggiorno. Il PD difende il balsello a carico dei turisti. Avanti. La provincia cancella i contributi a 39 imprese. Annullate le agevolazioni per un milione di euro perché le aziende non investono. Vanno in fumo i progetti previsti nel 2013 per ottenere i finanziamenti dell'ente. E poi, taglio medio, la prefettura non paga l'affitto. Debito di 280 mila euro con la provincia. Anche i vigili del fuoco non sono in regola. E poi i funerali a Moscufo che si sono svolti ieri. Rose e palloncini bianchi per l'addio a Fabiana. Un migliaio di persone per ultimo saluto alla 24enne morte in un incidente. Un lungo applauso al passaggio del feretro della barista finita contro un tir. Questi alcuni scatti del rito funebre che si è celebrato ieri appunto a Moscufo. In basso il bracciante investito è in rianimazione. La polizia locale di Spoltore studia le immagini delle telecamere e cerca testimoni dell'incidente. Avanti ancora e torniamo a Pescara. Boom delle imprese registrate 538 in più nel corso del 2015. I dati della CNA indicano un saldo attivo nella provincia. Forte crescita nel commercio. Cuzzi, siamo solo all'inizio. Poi ancora la questione scarichi con la replica di Del Vecchio a Fiorilli e Foschi. Scarichi nel fiume sono condotte ACA e delle ferrovie. E poi depuratore incompiuta da record. Secondo l'indagine 2013-2014, Codacons è tra le opere più costose e non finite. Ancora sulla provincia di Pescara, Manopello, Vare il Piano con opere per 14 milioni. Via libera al programma di lavori pubblici comunali per il prossimo triennio tra gli interventi previsti e la caserma dei Carabinieri e la rotatoria sulla Tiburtina. Andiamo nelle pagine di Chieti. Grave incidente a Vasto precipita dall'albero insegnante in coma. Il 43enne sale sulla pianta per recuperare un pallone. Ma il ramo si spezza e lui cade battendo la nuca a terra. In basso il comune dimentica i suoi furgoni, costosi mezzi ancora fermi, nel piazzale di una carrozzeria pescaresi. Il comune è quello di Chieti. E poi la pagina dedicata ai ricordi. Il Cigno Bellini, la celebre norma e nonno Vincenzo di Torricella. Le radici abruzzesi di uno dei grandi compositori italiani, autore anche dei Puritari e la Sonnambula. Era una famiglia di musicisti. Lavo partì dal paese del Chietino per Catania e insegnò l'arte al nipote. Ovviamente parliamo del piccolo comune di Torricella, Peligna. Pagina dell'Aquila e poi la pagina di Teramo. La BCC di Roma conferma impegni e investimenti. Avezzano 600 persone all'assemblea dei soci della banca. Annunciate interventi a favore dei giovani e delle scuole. E ad esempio ad Avezzano la cartiera resta al gruppo Burgo. C'è l'accordo. L'azienda produrrà cartoncino in salvo i 90 posti di lavoro. Pagina di Teramo. In 10.000 onorano i reduci di Russia. Grande sfilata di penne nere abruzzesi. E non per la ventiquattresima commemorazione del sacrificio del battaglione L'Aquila. Finiamo qui con il centro. Andiamo a sfogliare ora il messaggero Abruzzo. Dopo che avremo concluso con il messaggero Abruzzo, andremo a fare il nostro break meteo con Giovanni De Palma di Abruzzo Meteo. L'apertura è dedicata alla visita odierna del Premier Renzi. Renzi oggi in Abruzzo. Il Premier sarà alle 13.30 ai laboratori del Gran Sasso e due ore dopo alla Walter Tosto di Chieti. La seconda visita parlerà di Jobs Act e del contributo all'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare alla ricerca sulle onde gravitazionali. Lo sport sotto la testata. Basket di A2. Roseto la spunta di misura sulla proger. Il derby è suo. Calcio di Serie D. Giulianova e Amiternina ok. Chieti si lascia rimontare. Calcio di Lega Pro. Teramos confitta che pesa. I pre-off sono più lontani. Poi di spalla mondiali studenteschi di sci. Domani il Via. Cerimonia inaugurale all'Aquila. Poi gare a Ovindoli e Campo Felice. In taglio medio. Pescara a parcheggi. Si rischia il bis di attiva. L'arme del sindacato UGL. scade a fine marzo il contratto dei 39 dipendenti Berretti Blu. La fotonotizia con la scoperta. Torna alla luce un acquedotto romano. Serviva al rifornimento idrico di Alba Fucens. E poi in basso Giulianova vende a Tomba il suo maggiolino. La vendita tramite internet ad Alberto Tomba del suo maggiolino. L'autore di questa vendita particolare è Jurgens Cartone. Presidente del Consiglio Comunale. All'interno del messaggero Abruzzo. Siamo a Pescara. Berretti Blu. Rischio di attiva bis. Contratti in scadenza a fine marzo per i 39 dipendenti. Si teme un'altra avvertenza come quella degli ex interinali. Il sindaco vuole i lavori di riqualificazione dell'area di risulta. E si dovrà almeno rinegoziare il canone annuo per il comune. Gianna De Amicis dell'Ugile Provinciale pone la questione. Subito un confronto per dare un futuro a Pescara Parcheggi. E poi in basso confartigianato contro lo stop alle auto. Braccio di ferro a difesa del commercio. L'argomento è quello della domenica ecologica. Il comune va avanti. Salute da tutelare. I divieti lasciano spazio allo shopping. Tanti cittadini ha spasso in centro. Pagina dell'Aquila. Puntellamenti post-sisma. La Silva chiede i danni. L'azienda insiste per riavere 1,3 milioni che sarebbero bloccati in una banca. Nell'ambito dell'inchiesta Do Utdes la procura ipotizza una mazzetta svolta nel secondo filone dell'indagine relativa ai lavori su Palazzo Carli. Poi donna travolta a Montereale individuato il responsabile. Fu il corriere che diede l'allarme ad investire con il suo mezzo la sestantenne rimasta uccisa. E poi ancora Sant'Agnese delle Sant'Agnesi vince la congrega del Sergio. In Marsica blocco FAS per i privati. Pronte le graduatorie. A fine mese la valutazione per i 66 progetti presentati dalle piccole e medie imprese. Fondo da 4 milioni di euro. La crisi comunale non aiuta a individuare un mediatore politico e a recuperare i rapporti con la sovrintendenza. Bisogna sostituire le gabbionature sulle sponde del fiume Vella e Area Camper. Avanti ancora con le pagine di Chieti e Teramo. Partiamo da Chieti. Piscina 600 firme a favore di Teate Servizi. Una petizione in vista della decisione del TAR di venerdì. I frequentatori l'hanno inviata al sindaco con l'attuale gestore Servizi Migliorati. Anche gli istruttori si mostrano più rilassati, sereni e maggiormente motivati. Poi in basso sevele una settimana di agitazioni. La Brozzi della Fiume partono le assemblee sindacali. Poi anche qui la notizia di cronaca. Abbasto precipita dall'albero. Grave quarantenne. Abbasto sempre fermata a freccia bianca. C'è attesa per la firma. Pagina di Teramo. Caso tesoreria stoppa la convenzione. Nuova intesa con Tercas non passa dopo le polemiche. La negoziazione è stata portata avanti dal sindaco. Ora servirà il parere legale sugli aumenti. L'assessore Eva Guardiani chiederò verifica e sospensione del provvedimento. In commissione. Poi ancora a Giulianova nuovi capannoni genzi rilanciano l'area industriale. Europa Acciai ok premiata da Croce Bianca. Tutto tace all'ex SAIG. Roseto, comunali, tutti temono l'incognita del Movimento 5 Stelle. E poi sempre a Giulianova, come abbiamo visto in prima pagina, vende l'auto color oro al campione. Alberto Tomba. Ci fermiamo qui con la rassegna stampa per quanto riguarda la cronaca. Ma prima di passare allo sport e di vedere le pagine della Gazzetta dello Sport, io do il buongiorno a Giovanni De Palma di Abruzzo Meteo. Buongiorno Giovanni. Buongiorno Andrea. Buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Subito le ultime sul fronte meteo. Come avevamo annunciato nei giorni scorsi, la nostra penisola risulta interessata da un promontorio di alta pressione di patrice nordafricana che favorisce un clima decisamente mite, soprattutto sulle zone collinari e montuose, anche se non splende il sole perché sono presenti al momento degli annuvolamenti su gran parte delle nostre regioni. Si tratta tuttavia di annuvolamenti, di nubi alte e stratificate che non producono fenomeni di rilievo. Non cambierà di molto la situazione nelle prossime ore, ci saranno degli annuvolamenti ma anche delle chiarite e le temperature, soprattutto in quota, tenderanno ulteriormente ad aumentare. Ma si tratterà di una fase temporanea perché la situazione inizierà a cambiare già dalla mattinata di domani. Ma dal pomeriggio comunque si segnala la possibilità di foschie e banchi di nebbia, soprattutto lungo la fascia costiera. Segno che inizierà a cambiare la circolazione perché domani transiterà un impulso di aria più fredda di origine atlantica che non solo favorirà degli annuvolamenti ma localmente potrebbe dar luogo a delle precipitazioni a carattere spazio dapprima sulle zone montuose sul settore occidentale, poi nel corso del pomeriggio anche sul versante orientale. Seguire Andrea ci sarà un temporaneo miglioramento del tempo, però poi giovedì giungerà una nuova perturbazione e probabilmente nel fine settimana saremo interessati da un peggioramento decisamente più organizzato che potrebbe produrre fenomeni di maltempo anche sulla nostra regione. Ovviamente si tratta di una tendenza questa, quest'ultima, da confermare e ne riparleremo diffusamente nei prossimi aggiornamenti, Andrea. Quindi l'inverno in chiusura di stagione prova a battere un colpo, visto che è stato abbastanza assente? Ma diciamo che si tratta di un tipo di peggioramento di stampo autunnale, lo definirei, perché si tratta pur sempre di perturbazioni atlantiche. Non si intravedono irruzioni di aria fredda neanche nei prossimi giorni, ma un probabile peggioramento attornano le piogge. Questo sì, probabilmente attorneranno le piogge anche di una certa consistenza, a partire soprattutto dal fine settimana, Andrea. Senti, questa partita di Cagliari del tuo Pescara ti ha lasciato arrabbiato o deluso? Diciamo che più che altro c'è stato un po' di rabbia, perché una partita sicuramente da non perdere. Io penso che Pescara avrebbe meritato addirittura la vittoria per quanto si è vista in campo. Poi episodi un po' sfortunati, un errore difensivo. Ovviamente sono state situazioni che hanno penalizzato oltremisura questa formazione, ma io sono convinto che comunque questa squadra potrà arrivare lontana. Probabilmente anche da promozione diretta, perché il gioco che esprime questa squadra... Io ieri sera, Andrea, ho visto la partita a Roma-Palermo, ho visto il Palermo sinceramente, che non c'è un fraseggio, non c'è un gioco di squadra. La cosa che invece c'è al Pescara, che ovviamente credo che possa lottare sicuramente per la promozione diretta. Quindi non dobbiamo... il Pescara non deve abbassersi, insomma, deve continuare a giocare come sa giocare a calcio. E sicuramente già da sabato il Pescara tornerà ad essere protagonista. Andrea. Grazie Giovanni, buona giornata e buon lunedì. Grazie Andrea, una buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori di TV6. Abbiamo così introdotto appunto lo sport, vediamo la prima pagina della Gazzetta. Schiaffo a Totti, l'esilio del re di Roma. Il capitano è stato convocato dopo l'intervista in cui chiedeva rispetto, ha seguito la sfida con il Palermo dalla tribuna. Spalletti dice lui è unico, lo so, però devo pensare al gruppo. L'Olimpico contesta il tecnico, la società lo difende. Francesco non era sereno, dibattito, aperto. Poi ancora sotto la testata mi insultate, ma io rivolevo l'Inter. Ronaldo ai tifosi nel 2007 sarei tornato, però scelsero Adriano. Di Spall, Napoli Milan, Higuain, Bacca il meglio, Sinisa non so se il resto. Protagonisti, Fiorentina terza con il bello di Teio. Genoa, rinvincita Gasp, Toro, Ventura, Caos. Domani Champions, Juve, Chedira e l'anti Bayern. Rummenighe, Loggia, Agnelli. In analisi di Alessandro De Calò, contestate, tanto qualcosa resterà. E poi ancora Festa, Manita e Strootman. Geco e Salah che doppiette, proprio in riferimento al 5-0 della Roma sul Palermo nel posticipo di ieri sera. Gran ciclismo, Nibali, Valverde e Contador sono già i numeri uno al comando. Per il basket, Milano, 20 anni dopo, brinda in Coppa Italia, Sanders trascinatore. All'interno, pagina 2-3, schiaffo, Spalletti, Totti fuori. Dopo 23 anni è finito un amore e Roma si incendia. Mi hanno chiamato per aggiustare le cose e devo dare dei segnali, dice l'allenatore della Roma. La società sta con Spalletti, Francesco non era sereno. Poi per la partita la Roma batte il 5 con Geco e Salah, il Palermo crolla. Avanti ancora con la Fiorentina, Borca Super, Teio incanta. Come corre la Fiorentina con Vista sulla Champions. I protagonisti sono gli autori di due dei tre gol della Fiorentina. Riecco Carini, c'è Benvenuto, Teio. Così l'attacco prepara la sfida contro Iguain. C'è l'attesa per il posticipo tra Napoli e Milan. Questa sera una notte da Leone, Napoli-Milan è per i re dell'area. Sarri ritrova i titolari e punta tutto sul San Paolo. E poi sinistra, resto rosso-nero, se c'è piacere reciproco. Andiamo avanti. Ecco l'intervista esclusiva al Fenomeno. Ronaldo, che insultate, ma nel 2007 sarà ritornato. Però l'Inter scelse Adriano. Qui c'è un'intervista a tutto campo con Ronaldo. Poi l'attesa da Champions, Juvec, l'anti-Bayern, il No Man One porta fortuna. Parola di Rummenighe, che forza i bianconeri, ma noi restiamo uniti. Andiamo avanti con la pagina sulla Serie B. Crotone, il punto d'oro. La Saernitana sbatte contro Super Cordaz. Il portiere evita il K.O. e il vantaggio su Pescara sarà più 8. Menichini cambia ancora, ma non basta. In gol, Stojan e Coda. Ecco qui, voto 8 per il portiere Cordaz, autore di grandi interventi ieri. Cosmi, ritorno a Perugia, non mi sento un rivale. Questa sera il Trapani di Cosmi in trasferta al Curi di Perugia, in quella che è stata anche la casa di Cerse Cosmi. Per la Lega Pro, lupa Roma, ossigeno con il rigore di Fofanà. Il Teramo si vede tardi. Migliori in campo Malaccari con il voto 7. Poi avanti, siamo alla pagina della Coppa Italia del basket. Avellino battuta Armani. Che bello vincere con i tifosi. L'Olimpia conquiste il trofeo atteso da 20 anni. Sanders trascina una squadra finalmente matura. Ecco il finale, 82 a 76. Qui i giocatori di Milano con il patron Armani che alzano la Coppa Italia. Ci sono anche le parole del coach Jasmine Repiccia. Nei miei nove anni italiani questo titolo mancava. Cerella è un miracolo. Bruno Cerella, l'ex giocatore del Teramo Basket. Noi ci fermiamo, andiamo in pubblicità. Poi rientriamo. Prima pagina del Corriere dello Sport. Poi quotidiani locali e diversi servizi. Di nuovo buongiorno. Seconda parte di Mattino Seri. Riprendiamo con alcune pagine del Corriere dello Sport. Intanto la prima. Schiaffo alla storia. La bandiera della Roma punita per l'intervista in cui chiedeva rispetto da parte dell'allenatore. La notizia fa il giro del mondo. La società minimizza. Pallotta pronto a incontrarlo. Spalletti allontana Totti dal ritiro di Trigori. Il capitano Valolimpico e la folla lo acclama. Higuain contro Bacca per ritornare in testa. Napoli-Milano al San Paolo. Missione sorpasso. Ecco perché Totti era in buona fede nell'opinione di Alessandro Vocalelli. Poi in basso a colpo della Fiorentina tre punti da Champions. Poi basket Avellino-K.O. Armani. Triunfa Coppa Milano dopo vent'anni. Pagina 2 e 3 del Corriere. Totti punito. Via dal ritiro. Non smetto. E poi capitano. Noi siamo con te. Questa è la voce dell'Olimpico. Vediamo la pagina dedicata alla Serie B con i posticipi. La Sanitana frena il Crotone e poi Cosmi freme tra il Perugia e i playoff. E in basso si parla di Pescara. Nell'articolo di Giancarlo Febbo. Pescara Oddo non cambia meta. Il tecnico Biancazzurro sempre a caccia della promozione diretta a Cagliere. A Cagliere appunto sconfitta Amara. Mentre a Bari la squadra riabbraccia subito Camplone. Il tecnico esce dall'ospedale. Camplone pronto a dirigere nuovamente le operazioni. Dopo che negli ultimi giorni è stato Giacomo Di Cara ad andare in panchina. In particolare in occasione dell'anticipo contro il Latina. L'anticipo della 27esima giornata. Poi andando a vedere le pagine di ciclismo e tennis. Nibali in Oman. Una vittoria da Sultano. Obiettivo centrato. Ora destinazione Italia. Schiavone. Una carriera infinita per la Leonessa. Conquista il torneo di Rio a 35 anni e 8 mesi. Complimenti alla Schiavone. Ora veniamo alle pagine sportive dei quotidiani abruzzesi. Partendo dal lunedì sport del centro. Sebastiani Pescara da Serie A. Il presidente attacca l'arbitro Abisso. Il lanciano fa i conti salvezza. Sabato assalto al Bari. E poi ancora calcio di Lega Pro. Il Teramo crolla ad Aprilia. Campitelli contro la squadra. Calcio a 5. Rescia tra Scina e Pescara. Biancazzurri primi da soli. Palla a volo di A2. Sieco battuta in casa. Ora è crisi. Playoff più difficili. Basket di A2. Nemmeno Chieti riesce a fermare il rosetto di Trullo. E poi per i direttanti. Serie D. Giulianova risorge. L'Avezzano crolla. Chieti pari beffa. Eccellenza. Lavastese resiste all'assalto del paterno. Promozione in pugno. E campionato di promozione. Colpo prosulmona. Penne e Nero stellati. Restano in vetta. Pescara dunque. Corsa per la A. Sebastiani. Il Pescara è forte. Lottiamo per il secondo posto. Il presidente. Deluso per la sconfitta contro il Cagliari. Arbitro condizionato. Proveremo a raggiungere il Crotone. Ma abbiamo bisogno dell'appoggio della città. Ci hanno negato un rigore netto. Il futuro di Oddo è presto per parlarne. E poi il baffo del Delfino di Antonio De Lanardis. Adesso è chiaro. Il Pescara da Serie A. Notiziario. Coda verso il rientro. Ansia per Campagnaro. Oddo spera di recuperare un centrale difensivo contro l'Ascoli. Tornano Fiorillo e Verde. Vediamo anche il messaggero Abruzzo sul Pescara. L'articolo è il seguente. Il titolo è il seguente. Pescara un mese di fuoco. Smaltita l'amarezza per la sconfitta immeritata di Cagliari. Riprende la caccia al Crotone. Oddo possiamo riprenderli. Il calendario propone al Delfino tre gare in casa e una fuori. Almeno dieci punti per avvicinarli prima del confronto diretto. E poi per Coda e Crescenzi recupero quasi certo. Mentre per l'Ascoli, prossimo avversario del Pescara, in attacco recupera Cagliari. Ascoltiamo le parole del centrocampista Luca Storreira che aveva firmato il gol del momentaneo vantaggio al Sant'Elia. È stata una gioia molto importante per me perché è stato il primo gol in Serie B. e la giocata l'abbiamo preparato in settimana e si è riuscito bene con lui. Purtroppo non abbiamo riuscito a portare tre punti a casa quindi siamo un po' male. Quanta rabbia c'è per una sconfitta arrivata dopo una prestazione così almeno per un'ora avete surclassato il Cagliari? Tantissima rabbia perché i primi 45 minuti dovevamo fare tre o quattro gol almeno perché abbiamo avuto l'occasione e abbiamo sbagliato, dovevamo essere più cattivi ma dopo il calcio è così. Chi non fa gol e poi nel secondo tempo loro hanno uscito con un'altra voglia e noi siamo tirati un po' dietro e abbiamo pagato le conseguenze. Stai tornando ad essere il giocatore che avevamo visto anche nella passata stagione? Sì, dopo quell'infortunio che ho avuto sono tornato diciamo che più forte, poco ho lavorato tantissimo adesso sono da tre o quattro partite che sto facendo due l'area e voglio solo fare bene per la squadra. Torrera sabato c'è questa partita con l'Ascoli, una partita importante perché bisognerà cercare di tornare alla vittoria è una partita importante a cui tengono molto anche i tifosi. Sì, le partite sono tutte importanti, quelle che stanno sotto, quelle che stanno davanti sempre ti la giovano uguale, quindi in cassa dobbiamo sempre vincere. Ed è arrivata la prima sconfitta della gestione a Maragliullo per la Virtus Lanciano ma, scrive il messaggero Lanciano, i giochi sono aperti. Mister Maragliullo, il K.O. alla Spezia ci può stare, non guardiamo la classifica. Ora ci serve tranquillità, restano i dubbi per la mediana e le possibili penalizzazioni. Vincere sette gare per sperare ancora. Si ipotizza dunque una tabella di marcia verso la salvezza per la Virtus. L'attaccante di Francesco, la sfida con il Bari, non possiamo sbagliarla. Lega Pro sempre sul messaggero. Teramo, brutto K.O., play-off più difficili. I biancorossi sconfitti a Roma dalla lupa. Fatale un rigore di Fofanà nella ripresa. Sfortuna, a pochi secondi della fine, Cruciani scheggia la parte alta della traversa. Le pagelle nel Teramo ci sono diverse insufficienze. Al massimo ci sono dei voti pari al 6. Quindi prestazione più che mediocre del Teramo. Anzi, diciamo proprio insufficiente. Vivarini, ammuso duro, atteggiamento sbagliato. Sono arrabbiato, siamo mancati in tutti i fondamentali. Poi le parole del patron Campitelli sono stufo di questa situazione. Le critiche dei tifosi ci stanno, ma gli obiettivi si raggiungono solo insieme, ha detto il difensore Marco Perrotta. Vediamo ora sul centro, per quanto riguarda il Teramo. Ecco qui queste due pagine. Teramo finisce in bocca alla lupa. Un rigore di Fofanà stende i biancorossi nella trasferta di Aprilia. Prestazione sottotono. Campitelli esplode. Gara vergognosa. Ora sono stufo. Il patron, chi non se la sente, vada via. Noi ci siamo e ci saremo ancora. Vivarini, è mancata la cattiveria. E poi per Rotta, fame e a culpa, siamo rammaricati. Il difensore esamina la sconfitta e accetta le critiche dei tifosi, ma chiede sostegno. Ne abbiamo bisogno. E poi le pagelle, anche in questo caso, voti molto molto bassi. Il migliore è di Paolo Antonio 6,5, ma ci sono tanti 5,5. Allora andiamo a vedere il servizio della partita e poi un estratto dell'intervista al tecnico Vivarini. Il Teramo da forse l'addio alle residue speranze di acciuffare la zona playoff perdendo di misura in casa della Lupa Roma penultima in classifica, ma squadra tutt'altro che rassegnata. In terra laziali i ragazzi di Vincenzo Vivarini hanno offerto una prestazione opaca al cospetto di un avversario che ha gettato in campo maggiore cattiveria agonistica di speranze e compagni che devono così riporre nel cassetto i sogni di gloria e pensare a questo punto a chiudere la stagione senza correre rischi. In campo c'è una Lupa Roma a trazione anteriore con Belcaid, Tullio e Fofana in attacco fra i biancorossi di Vivarini. Formazione praticamente annunciata con il solito 3-5-2 e le noci a ridosso di Forte. Al quinto Ricci si comincia sul filo dell'equilibrio. Al terzo c'è però un cross teso dalla destra di Daffara che costringe Tonti alla respinta con i pugni. Al settimo c'è una buona opportunità per Forte che al limite dell'area sull'uscita di Anedda termina a terra e chiede il fallo con Nicoletti di Catanzaro che lascia però proseguire fra le proteste dell'attaccante biancorosso. Al nono minuto buona opportunità ancora per gli ospiti con Forte che in area lascia le noci che tira però alto da buona posizione. La gara è giocata a buon ritmo e con diversi capovolgimenti di fronte. Al quarto d'ora sugli sviluppi di un calcio d'angolo c'è una rovesciata alta in area abruzzese di Daffara. Il Teramo quando spinge crea problemi elaziali e così accade che al ventesimo di Polantonio in area ha la palla buona mancando però la mira e concludendo alto. Al trentaduesimo ancora di Polantonio crossa in area per Forte che si gira e mette però sopra la traversa e si è appressato da un difensore. L'ultima opportunità è per i locali con un tiro centrale di Belkaid. Nella ripresa si ricomincia ancora sui binari della perfetta parità. Al quattordicesimo ci prova Forte dai 18 metri con la conclusione che termina di pochissimo a lato. Al sedicesimo di Polantonio forse tocca il pallone con la mano in area terramana con Nicoletti che lascia proseguire fra le proteste locali. Passa un minuto e sugli sviluppi di un calcio d'angolo e Fofanà ad incornare di pochissimo sopra la traversa. Al ventiseiesimo arriva la svolta della gara con Cruciani che tocca in area Malaccari e con Nicoletti che indica il dischetto. Il tocco dell'ex Beneventano è leggero ma Nicoletti non ne vuole sapere e assegna il rigore che Fofanà non sbaglia regalando il vantaggio ai padroni di casa. La reazione del Teramo si concretizza con una conclusione di Lenoce al quarantesimo respinta da Anedda che salva la sua porta prima dell'ultima opportunità che capita al 94esimo a Cruciani che colpisce in pieno la traversa di destro a sancire la giornata negativa del diavolo. La partita non è facile da commentare il discorso se parliamo di episodi c'è da rivedere il primo episodio nostro perché su Forte all'inizio della partita c'è stata questa situazione lì da vedere ma non è da analizzare questi episodi perché lo sappiamo noi dobbiamo fare di più oggi purtroppo abbiamo fatto di meno di quello che dobbiamo fare e questa è la grande delusione che ho e la grande rabbia perché fuori casa ci vuole un piglio maggiore poi bisogna correre in campo bisogna credire bisogna essere più reattivi più cattivi, più determinati altrimenti non riesci a esprimere le qualità che abbiamo quindi di conseguenza sono molto molto arrabbiato e purtroppo è andata così. E ora torniamo sul messaggero parliamo dell'Aquila Corsara a Savona sabato scorso l'Aquila ora respira salvezza possibile spugnando Savona all'ultimo posto e a 10 punti alla vigilia dell'appello di Dirti Soccer in cui si spera in uno sconto di pena il mercato ha rafforzato la formazione rosso-blu specie in difesa per la serie D Amiternina Corsara con Torbidone e Teriaca gol Avezzano altra giornata storta ma con attenuanti a campo basso finisce 3-1 Lucarelli sulla graticola perla di Giampaolo il Giulianova spera brutto primo tempo della squadra giallorossa poi in avvio di ripresa arriva il gran gol che taglia le gambe all'area canatese rilancia le chance di salvezza Chieti che beffa il Monticelli pareggio all'ultimo assalto 2-2 ad Ascoli poi ci sono le interviste per Giulianova recanatese Gelsi io parafulmine se si retrocede riguarda tutti e poi Marino tecnico del Chieti certe ingenuità pagate a caro prezzo uno sguardo anche alle pagine sulla serie D del centro Avezzano nuovo stop Marsicani sconfitti a campo basso non basta il gol di Di Curzio il Giulianova si riscatta ma resta all'ultimo posto i giallorossi piegano l'area canatese grazie alla marcatura di Giampaolo Clima teso al Fadini curva a ovest contro Gelsi il patron Serraiocco rassicura San Nicolò secondo stop di fila una rete di Costantino decide la sfida a favore della Vispesaro la Miternina ritrova i tre punti si dimette il tecnico dell'Isernia e poi per il Chieti il Chieti col Monticelli sciupa tutto nel finale è solo pari allora treno di servizi Giulianova Recanatese 1 a 0 Monticelli Chieti 2 a 2 Isernia Miternina 0 a 2 una vittoria rigenerante per il Giulianova tre punti pesantissimi che servono a tenere i giallorossi ancorati al treno Salvezza un treno che oggi però vede le squadre che stanno dietro fare tutte o quasi bottino pieno e direi che di fronte c'era la Recanatese formazione tosta e che aveva vinto quattro volte nelle ultime cinque uscite Chelsea si affida a Rufo davanti con Emili e Pellecchia e Giampaolo a dargli supporto ma la prima frazione è da sbadigli al terzo il brivido lo regala proprio Proietti tradito dal terreno di gioco e che quasi regala la marcatura ai leopardiani brivido forte quello che attraversa la schiena dei tifosi giallorossi la gara però da qui in avanti stenta a decollare Pellecchia al diciottesimo spara da buona posizione ma trova il corpo di Falco a ribattere la sua conclusione Murano sul versante opposto minuto 22 chiama Proietti alla pronta risposta in corner sul palo di competenza e così i minuti trascorrono mentre la Miternina e l'Agnonese stanno già vincendo le proprie partite Miani alla mezz'ora servito da Murano alza troppo la mira del suo destro tutto qua quello che accade in un primo tempo molto diverso da una ripresa che si apre col gol che spacca la partita nemmeno quattro giri di lancetta e Giampaolo si sistema il pallone sul destro rasoietta precisa sul primo palo Verdicchio non può nulla e Giulianova passa a condurre Gelsi una volta trovato l'1-0 richiama ad Antonio già monito inserisce Marzucco i padroni di casa controllano senza rischiare mai più di tanto la Re Canatesi alza il baricentro ma non trova mai lo speraglio giusto anzi Emilia la mezz'ora della ripresa è il diagonale della sicurezza ma spara addosso a Verdicchio l'ultima emozione della gara è a tempo scaduto la testata di Falco minuto 91 che Proietti controlla blindando di fatto un successo importantissimo la classifica dice ancora che i giallorossi sono fanalino di coda ma giocando così il traguardo della permanenza in categoria non è davvero così impossibile da ipotizzare all'ultimo respiro il Monticelli agguanta il pari grazie a Capitanzosi sfidando tra le muramiche del Del Duca un Chieti padrone del campo per buona parte della gara il Monticelli non vince dal 10 gennaio è reduce da tre pareggi consecutivi il Chieti dopo la sconfitta col campo basso nella gara autogestita ha conquistato un pareggio e una vittoria sotto la guida di Marino all'ottavo Petrucce a ridosso della bandierina passa al centro una palla insidiosa che mette in apprezzione l'estremo ospite Romaniello al quindicesimo risponde il Chieti con la doppia conclusione di Comini prima ribatte Mecca e ricucci poi da buona posizione ma Mecca è attento il Chieti alza il proprio baricentro col passare dei minuti al 27esimo ancora Comini devastante sulla destra la mette al centro smanaccia Mecca e Petrucci in qualche modo la spazza via due giri di lancette e Dos Santos sgomita con un avversario e si ritaglia lo spazio per un tiro che si trasforma in un assist per nessuno però ancora Chieti al 34esimo con Fiore che tenta la conclusione è bravo Mecca ad alzarla quanto basta sopra la traversa nel momento migliore del Chieti potrebbe arrivare la beffa ma a figliaggi viene murato dai centrali proprio sul più bello al 41esimo è Comini ad alzarla troppo da buona posizione su un bell'invito di Riccucci al minuto 43 è Sbardella che fa il miracolo ancora su figliaggi che si trova tu per tu con Romaniello dopo il filtrante di Margherita allo scadere passa il Chieti con Dos Santos abile a battere Mecca con un gran tiro dalla distanza al quarto della ripresa il pareggio del Monticelli su angolo di Petrucci svetta più alto di tutti i sosi che di testa batte Romaniello risponde il Chieti al settimo conclusione di Fiore Mecca para a terra al diciottesimo esce Margherita entra Galli al ventesimo buon tiro di Fiore ma finisce lì al venticinquesimo ghiottissima occasione per il Monticelli con il colpo di testa di Alievic ottimamente imbeccato da Petrucci decisivo l'intervento del numero uno ospite sulla ribattuta arriva Galli che prende l'esterno della rete il Chieti torna avanti al ventisettesimo con Adamoli dormita generale della difesa del Monticelli e alla fine la mette di tacco il centrale difensivo Neroverde al quarantacinquesimo Figliaggi si divora il pari bravo Giosuè a servirlo in profondità e solo davanti alla porta va al tiro ma la palla si stampa sulla traversa quando il Chieti già assaporava i tre punti arriva il pareggio del Monticelli ancora con capi tanzosi e ancora di testa sale l'urlo liberatorio dei tifosi di casa finisce due a due applausi per tutti esce dal campo a testa bassa l'isernia tra le contestazioni dei tifosi delusi amareggiati da un'alta sconfitta ma ancora di più dalla brutta prestazione dell'undici di De Bellis che cede nello scontro diretto in chiavo e salvezza alla Miternina formazione assolutamente alla portata dei Biancocelesti gli ospiti non faticano più di tanto e chiudono l'incontro sul 2 a 0 già nel primo parziale gli abruzzesi li vediamo al primo tentativo al tredicesimo diagonale di Torbidone ma la sfera termina di poco a lato al quarto d'ora l'isernia tentano a ripartenza con Cantoro va a cercare Panico che scaglia direttamente sui piedi del portiere arrivati al ventesimo ecco il vantaggio calcio piazzato con Lennart palla in aria ad avere la meglio e Marco Tullio che firma così l'1 a 0 ospite al ventisesimo ci prova l'isernia con Fontana che da buona posizione manda alto sulla traversa arrivati al trentaquattresimo si complica la situazione per l'isernia Terriaca sfrutta al meglio l'assist di Torbidone ed ecco il 2 a 0 per gli abruzzesi e tutti negli spogliatoi la seconda frazione si apre con un calcio piazzato di Ruggeri che va di poco alto sulla traversa al 22esimo di nuovo pericolosi gli ospiti amnestia difensiva per l'isernia di fronte la coppia di Alessandro Torbidone e tocco di quest'ultimo con il palo a salvare al 41esimo sinistro insidioso di Cantoro ma è buona la risposta di Di Vincenzo termina così l'incontro con una brutta sconfitta per l'isernia sconfitta questa che potrà costare la panchina mister De Bellis il presidente Mazzocco ha dichiarato che nessuna decisione sarà presa a caldo ma che comunque si sta valutando ultimi minuti della rassegna stampa di mattino 6 andiamo a vedere il basket sul centro Moreno mette le ali al Roseto ieri appunto il derby al Palatricalle due triple nei secondi finali stendono il Chieti al Palatricalle dopo un match combattuto 81 a 83 il finale vedete 29 punti per Lilo 23 per Armwood nella Proger per Roseto 26 di Allen 18 di Weaver 12 ma pesantissimi quelli di Moreno i punti di Yankel Moreno Trullo dedica ai tifosi grazie di cuore a Yankel il coach adesso proviamo ad andare più in alto possibile in classifica la Guardia Cubana le mie bombe avevo spazio per tirare e l'ho fatto qui ci sono le pagelle delle due squadre nella Proger 7 e mezzo Lilo 7 e Armwood poi voti piuttosto bassi per tutti gli altri per Roseto 7 per Allen 7 e mezzo Moreno 7 Weaver piccole insufficienze per Borra e Marulli Galli sconfitti all'ultimo minuto Lilo la mia gara è inutile fare bene se poi non vinciamo per la Serie B Campi ha più fiato e fa suo il derby 63 a 50 su Ortona l'amatori va sul velluto 86 a 67 su Monteroni vasto KO annunciato a Sansevero 80 a 48 Taranto Giulianova invece si gioca il 5 marzo perché il Palamazzola di Taranto era impegnato per un'altra manifestazione calcio a 5 il Pescara mette il turbo e si riprende la vetta una cannonata di leggero suona la carica nel big match contro i Rieti Betao e Rescia completano il lavoro gli annascoli non era facile dopo gli europei ovviamente parliamo di calcio a 5 volle di a 2 la Seco non si sveglia dall'incubo finisce 0 a 3 a Ortona contro Cantù 28 a 30 23 a 25 21 a 25 i parziali dei 3 set abbiamo concluso qui con il centro andiamo a vedere ora il messaggero sempre con il basket Roseto derby in volata grande spettacolo al Palatricalle ottimo primo tempo della Proger ma Moreno completa la rimonta Sharks poi le parole del presidente della Proger di Cosmo abbiamo pagato caro gli errori nei tiri liberi mercato possibili rinforzi in arrivo Lilov io ci credevo e poi sulla sponda Rosetana Weaver i playoff io ci credevo già in estate Brian stiamo giocando molto bene di squadra poi le parole di Borra i compagni mi hanno aiutato dopo un avvio difficile parla anche Moreno il Mastigre lo dovevamo ai tifosi non solo questo ma anche c'è un'altra pagina dedicata al derby tifosi in piazza per la festa Sharks Trullo primo tempo non mi è piaciuto è stata utile la strigliata nell'intervallo ho chiesto vogliamo prenderne 20 o proviamo a vincere anche questa partita e poi le parole dello sconfitto Galli Proger adesso è inutile piangerci addosso chiudiamo con l'eccellenza abruzzese Paterno ci prova la vastese regge ieri c'era lo sconto diretto ma è finito 0 a 0 e questo vuol dire che la vastese ha posto una serie ipoteca sulla vittoria del campionato mantenendo intatto il distacco di più 6 al comando della classifica vastese 60 Paterno 54 ieri a Celano è finita dunque 0 a 0 finisce qui mattino 6 vi ricordo gli appuntamenti informativi del TG ore 14 19 e 23 e vi ricordo anche questa sera l'appuntamento alle ore 21 in diretta dai nostri studi con Replay la trasmissione di Enrico Rocchi dedicata appunto al Pescara è tutto grazie a Claudio Di Giacomo in regia e grazie a voi per la cortese attenzione buona giornata grazie a tutti grazie a tutti